ciao ragazzi un saluto dal vostro mister pitbull mister pitt siamo alla seconda puntata di sport love abbiamo lasciato in sospeso un argomento della prima puntata era relativo sempre alle quattro medaglie d'oro di gestione infatti gestione ebbe un regalo prima di quelle gare e lo ebbe da adi dasler ebbe delle scarpe con quelle scarpe lui riuscì a vincere le quattro medaglie d'oro adi dasler è il padrone del padrone dell'altas colui che ha creato questa grande azienda e praticamente era un atleta che studiava il modo di associare la scarpa alla disciplina e riuscì a creare insieme al fratello una fabbrica dove venivano realizzati vari vari prodotti varie tipologie di scarpe per tante discipline lui praticamente ebbe problemi con ebbero i problemi con il fratello rudolf il quale si staccò e creò la mentre dasler creò l'andas che viene proprio dal suo nome e cognome adi dasler adidas detto questo passiamo alla seconda puntata la seconda puntata di sport love era in programma una qualcosa di diverso però ieri ho visto un documentario di uno dello sport che parlava di un mondiale 82 e quindi un mondiale che a cui sono molto sono molto affezionato un mondiale che mi ha fatto appassionare sempre più al calcio quelle partite sono state delle partite eccezionali partite indipendicabili l'italia dalla partita con l'argentina fino alla finale con la germania è stata fantastica però volevo ricordare il lo squadrone abbiamo battuto per 3 a 2 quello del brasile il brasile eccezionale fenomeno falcao edersi l'iso socrates giù un brasile eccezionale forse un brasile che aveva un solo neo il portiere val di peres e poi anche la convinzione di aver già vinto la condizione di aver già vinto quella quel mondiale loro dovevano a tutti i costi tornare a casa con la coppa del mondo e non ci riuscirono ci riuscirono l'italia che vince la sua terza con il grandissimo paolo rossi con il grandissimo bruno conti e tutta la squadra tra i portieri dino zoff tardelli sciria collovati bergomi graziani ma che campioni e poi il grandissimo allenatore berzotto che ci portò con la sua pipa a vincere l'ambiente è stata è stata una una spedizione molto criticata infatti loro loro andarono in silenzio stampa in silenzio stampa e ci sono molti problemi con i giornalisti e con la stampa però riuscirono in quella finale a battere la germania la germania che aveva fatto una semifinale con la con la francia una grandissima semifinale anche quella la grandissima partita in cui la francia con il grandissimo michelle platini non riusciva ad avere la meglio di disegno comunque è stata un'italia eccezionale quella che più ricordo non so come però è quella che più a cui sono più affezionato anche se quella del 2006 ha vinto il mondiale ma non sono legato a quella nazionale come sono legato a quella del 1982 non so voi cosa ne pensate detto questo volevo fare un saluto ad un mio iscritto il piccolo borgino grazie di tutto seguimi sempre e poi a tutti quanti quando vedete i video bel mi piace tac bel iscritto tac e sono contento e seguitemi mi raccomando ci saranno altre storie altre situazioni da commentare anzi volevo un attimo fare una parentesi sul sull'olimpiade grandissime grandissime le tre italiane le tre ragazze italiane che hanno vinto l'oro sofia goggia nella discesa libera nella gara maest nella gara nella gara regina delle olimpiadi invernali arianna fontana la nostra portabandiera nello short track 500 metri grandissima gara di velocità e poi michela moioli nello snowboard nella discesa con lo snowboard la michela moioli che aveva avuto un grosso incidente che ha recuperato e che è stata grandissima tutte e tre grandissime sono entrate nella storia un bacione alla prossima ragazzi seguite mr pitbull seguite sport love ciao